manca solo l'ufficialità ma il bitonto è ormai ad un passo da una storica promozione in serie c e questo è il riassunto della settimana appena trascorsa vissuta sul filo delle emozioni e delle attese la compagine nero verde il patron francesco rossiello si può dire ormai virtualmente promossa per la prima volta nella sua storia in serie c tra i professionisti un traguardo incredibile se si pensa che è stato raggiunto ad un passo anche dal centenario di fondazione della squadra della nostra città ma riavolgiamo il nastro su quanto accaduto in questi ultimi giorni mercoledì a roma si è tenuto il consiglio federale della figc per decidere sul futuro del calcio italiano e su come ripartire o archiviare la stagione in corso dopo la sospensione forzata per l'emergenza covid 19 la figc ha deliberato per la ripresa dei campionati di serie a b e c senza scartare l'ipotesi per quest'ultima categoria di disputare soli playoff per sancire la quarta promozione in b stop invece per la serie d per quanto concerne invece l'attività dilettantistica ivi compresa quella femminile fino alla serie b recitava il comunicato federale valutate le condizioni generali e l'eccezionale situazione determinate se a causa dell'emergenza covid 19 il consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni resta fissato al 30 giugno il termine dunque per la conclusione dell'attuale stagione sportiva la palla dunque poi è passata la lega nazionale dilettante che nella giornata di ieri riunitosi nel consiglio direttivo in videoconferenza ha deliberato di proporre al massimo organismo federale la cristallizzazione delle classifiche al momento dell'interruzione del campionato prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento quest'ultimo aspetto peraltro aderisce a quanto già indicato dal consiglio federale in relazione ai campionati professionistici tra le richieste anche quella relativa ad una graduatoria di merito per gli eventuali ripescaggi laddove si verificasse una carenza di organico sempre tenendo conto di privilegiare il valore primario del merito sportivo ora la palla passa nuovamente al consiglio federale che il 3 giugno dovrà ricevere valutare le proposte della lnd e ratificare ufficialmente i verdetti e dunque altri giorni di attesa prima di ufficialità definitive ma il bitonto ormai sente davvero il profumo della serie c il profumo di un traguardo mai raggiunto nella sua storia ormai centenaria grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti